E' stata un po' più lunga del solito, quattro mesi di preparazione, un po' duri e intensi, però dai, finalmente ci siamo. E' arrivato il momento che i guerrieri entreranno nell'arena! Bikini Gamalzi, Michael Lowell Maniacini! E' la prima ripresa, first round! E' la prima ripresa, è la prima ripresa! Michael Lowell Maniacini! E' il main sponsor della serata, le cinema caffè di Roberto Massarone. Grazie al comune e alla provoco della città di Fonni. I grandi uomini vedono oltre, il mare è in tempesta, però vedono un puntino lontano, lontano dove si può arrivare. E questo è Roberto. Michael Magnesi, campione del mondo! Eh sì, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al grande traguardo. Grazie! 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 Grazie!